Il Comune di Corigliano Rossano, in collaborazione con il settore politiche sociali e l'associazione Anfas di Corigliano, ha ospitato un significativo convegno intitolato da Legge 112 del 2016. Dopo di noi, il futuro si pianifica nel presente. Nel corso dell'evento, svoltosi presso il Centro di Eccellenza, sono state esposte esperienze e competenze. Al centro, la dignità della grave disabilità. È molto importante che si apra una finestra su questa tematica, che si tenga sempre attenta all'attenzione, perché veramente ancora tantissimo c'è da fare. Questo provvedimento legislativo, nato con l'intento di progettare il futuro a partire dal presente, considerando il durante come una fase cruciale di transizione, ha introdotto finanziamenti ed agevolazioni finalizzate a garantire un progetto di vita sostenibile per le persone con disabilità grave anche in assenza del supporto familiare. Oppure la casa di origine, insomma, partiamo sempre dal presupposto che la persona con disabilità deve e può, ovviamente, supportata, scegliere con chi vivere. L'incontro ha permesso di discutere concretamente su come implementare la legge per migliorare la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Quello che noi facciamo, le nostre attività sono tutte mirate all'autonomia della persona e con questa intendiamo autonomia in tutti gli ambiti della vita, quindi autonomia a casa, autonomia fuori casa, quindi che possa favorire l'inclusione e in qualche modo l'autogestione. Matteo Lauria per l'AC News 24. Grazie a tutti. Grazie a tutti.